Come ben sai, le spese condominiali si dividono in ordinarie e straordinarie. Le prime sono relative alle spese di gestione e manutenzione, mentre le seconde ai lavori che esulano già la gestione comune. Queste ultime hanno poca incidenza economica se sono relative a piccoli interventi, ma sono rilevanti se interessano opere importanti, quale il rifacimento della facciate, dei tetti, dei lastrici, ecc. Al momento della sottoscrizione del preliminare è bene chiarire come verranno gestiti i pagamenti di eventuali residui di pagamento sul condominio. In genere l'accordo si concretizza con la richiesta di una liberatoria firmata dall'amministratore di condominio. Da quest'ultima si evincerà la mancanza di spese arretrate. Alcune volte però gli acquirenti meno attenti tralasciano questi controlli senza sapere che in base alle disposizioni del Codice Civile, anche se non siamo direttamente responsabili, ci rendiamo solidali nel pagamento delle rate condominali relative all'anno in corso e a quello precedente. Per anno intendiamo quello di bilancio naturalmente. Facciamo un esempio. Acquistiamo l'appartamento nel 2021 e siamo responsabili, se il venditore non ha provveduto, del pagamento degli oneri del 2021 e del 2020. Come detto in precedenza, si è solidali e l'amministratore di condominio potrebbe imputare il pagamento all'acquirente e se così non fosse, quest'ultimo dovrebbe rivalersi sul venditore. Per un amministratore di condominio è in genere più facile attaccare il nuovo proprietario, ma questo è un altro discorso. In sintesi, siamo responsabili del pagamento, ma possiamo rifarci sul venditore originario. Affrontiamo adesso il discorso relativo alle spese straordinarie che, se relative a lavori importanti, potranno incidere tanto sulla nostra economia. È necessario quindi informarsi tramite l'amministratore di condominio se sono state emesse delibere su lavori straordinari. La data di delibera è fondamentale perché determina lo spartiacque sulla responsabilità dei suddetti pagamenti. C'è da fare un'importante precisazione. La delibera generica sullo svolgimento dei lavori non ha rilevanza particolare. La più incisiva è quella che sancisce in maniera chiara tutti gli elementi utili a definire l'operatività futura menzionando cifre ed imprese incaricate. Se la delibera è stata formulata in maniera chiara ed esaustiva ed è antecedente al rogito, spetta al venditore pagare in caso contrario all'acquirente. Sono sottigliezze a prima vista ma è importantissimo verificare questi passaggi. Spesso quando parliamo di oneri condominali pensiamo all'acquirente come soggetto debole ma è importante precisare che anche il venditore avrà da perdere se non si tutela a modo. Quest'ultimo infatti ha l'obbligo di comunicare all'amministratore di condominio in forma scritta il passaggio di proprietà entro 60 giorni dall'atto di vendita altrimenti rimarrebbe l'unico riferimento economico per l'amministratore.